Però al centro di questa giornata c'è una riflessione ancora da fare, non solo in questa giornata, tutto l'anno. Quella sugli infortuni, sulle morti sul lavoro. Ieri l'Inail ha presentato la relazione annuale riferita al 2021. Allora vediamo i dati emersi nel servizio di Anna Scafuri. Gli infortuni sul lavoro non diminuiscono. Emerge dalla relazione annuale dell'Inail presentata a Palazzo Montecitorio. Dopo gli anni più difficili della pandemia, le denunce di infortuni sul lavoro di tipo tradizionale nel 2021 sono aumentate del 20% rispetto all'anno prima, se si escludono i casi di contagio da Covid-19. 1361 i decessi denunciati, più 10% sempre al netto del Covid-19. E tra gennaio e maggio 2022 ancora più numerose le denunce di infortunio, 364 con esiti mortali. Il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, presentando la relazione, ha sottolineato il ruolo del PNRR per migliorare la prevenzione, puntando su formazione e cultura della sicurezza. L'istituto ha messo a disposizione del proprio patrimonio di competenze e esperienze nella sfida per l'attuazione del PNRR. L'iniziativa più rilevante, ha spiegato Bettoni, riguarda l'avvio di collaborazioni permanenti con grandi gruppi industriali impegnati negli interventi previsti dal piano, come quella siglata dall'Inail con le ferrovie dello Stato. Il rischio cresce dove il lavoro è più precario e dove l'inquadramento contrattuale è peggiore, ha detto il ministro del Lavoro Orlando. Urgente una riflessione anche sul modello di competizione che un paese sceglie, ha concluso. Il nostro non può permettersi di competere solo con una riduzione del costo del lavoro. Il presidente dell'Inail Franco Bettoni è in studio con noi. Buongiorno presidente, ben trovato. Abbiamo sentito anche le sue parole ieri nel corso della presentazione della relazione annuale 2021 a Montecitorio. Sono numeri che preoccupano, continuano a preoccupare. La particolarità di quest'anno è che c'è un dato scorporato con le morti per Covid, quelle senza Covid. Che cosa ci dice in questo senso la relazione? Innanzitutto la relazione è un dato importante che ci aiuta a riflettere. La riflessione della fatta è che qui si parla di persone e famiglie. Pertanto questo è il primo punto che si deve toccare. Quando succede un incidente mortale e noi dobbiamo riflettere che un paese avanzato come l'Italia non può permettersi tre morti al giorno sul lavoro, che vediamo quotidianamente indipendentemente dalla relazione. Cosa dobbiamo fare? E quello è l'impegno di tutti, partendo dall'Istituto che consola le sue competenze, le sue capacità, mette in atto convenzioni, stipula protocolli di intesa per andare a parlare di salute e sicurezza, ma soprattutto per diffondere, per seminare una cultura del rispetto delle norme e del lavoro sicuro in tutti i settori, perché ci si ammala, si muore, ci sono... I dati di ieri hanno dato questa evidenza. Siamo ancora, siamo stati 20-21 in mezzo a dati che colpivano la pandemia. Oggi senza la pandemia, il dato che ho dato ieri, i primi cinque mesi dell'anno, più 47% di denunce degli infortuni sul lavoro rispetto al 21, gennaio-maio 21. tra qualche giorno daremo i nuovi dati e viene confermato questo dato. Pertanto la riflessione è di andare oltre le norme che ci sono, ma dobbiamo andare oltre a seminare la cultura della sicurezza, responsabilizzare tutti gli attori che all'interno di un'azienda, di un appalto, di un lavoro, è importante. L'accordo con le ferrovie, dove i fondi del PNR e molte aziende verranno prese in carico, verranno finanziate, ecco noi dobbiamo fare formazione a tutti i livelli, dal datore di lavoro ai preposti, alle imprese che entrano a lavorare per formarli sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. L'Inec fa anche della ricerca, la ricerca per trovare soluzioni con indumenti adatti, presidi adatti per far capire a tutti che si può lavorare in sicurezza e cercheremo di innovare con articoli importanti nella nostra ricerca. Senta Presidente, c'è un governo attualmente in carica per gli affari correnti, la crisi di governo, temete che questo possa rallentare un dialogo che era già aperto? Il dialogo è in corso, il dialogo è in corso per la tutela delle vittime e centri sul lavoro perché bisogna dare prestazioni alle persone, agli infortunati, alle vedove, agli orfini e il dialogo è in corso. Il resto per quanto riguarda il PNR, per quanto riguarda i progetti di sicurezza che andiamo a fare con Ferrovie o con altri gruppi, proseguono su quella strada. Ieri col Ministro ne abbiamo parlato, ieri era anche il Vice Presidente della Camera. Il nostro lavoro continua perché il nostro lavoro è un'istituzione al centro, la missione sociale dell'Istituto è parlata di salute e sicurezza e tutela delle vittime e delle famiglie. Alessandro, la sicurezza sul lavoro resta spesso ai margini, secondo te, nel dibattito, nel dialogo tra governo e parti sociali o l'hai vista più centrale negli ultimi tempi? No, anzitutto vorrei segnalare un dato che un po' corrobora quanto ha detto il Presidente. Negli ultimi vent'anni c'è stata una riduzione della mortalità per incidente stradale, da quasi 8.000 morti l'anno a 2.500. Invece i morti sul lavoro sono stabili. Quindi i processi di tecnologizzazione, la cultura della prevenzione ha funzionato sulle strade, non funziona in aziende. Questo è un unicum, è veramente una stranezza. E riguarda proprio, come diceva il Presidente, la cultura del lavoro, la dimensione pulviscolare delle imprese, il fatto che noi abbiamo imprese piccole, molto piccole spesso, e di fronte alle crisi anche di produttività si incentiva la produttività non tenendo conto delle garanzie. È triste questo, perché poi abbiamo un Paese che ha scarsa produttività e purtroppo la produttività finisce per diventare nemica della sicurezza. Nei contratti nazionali l'elemento salariale prevale sempre, perché siamo un Paese dove i contratti nazionali definiscono gli aumenti e i minimi salariali. E questo è anche un unicum in Europa. È chiaro che se il salario è centrale, la sicurezza passa in secondo piano. L'infortunio sul lavoro, lo diceva il Presidente, rimane spesso una ferita indelebile. Vogliamo raccontarvi la storia di Stefania Benedetti, che è un'imprenditrice di Civitanova Marche e racconta proprio quella giornata che le ha cambiato la vita e che resterà per sempre il suo giorno X. Questa storia l'ha raccolta Laura Aldorisio. Ciao Vale! Ah, ciao! Io sono obbligata a fare attività sportiva perché ho la parte sinistra che mi si atrofizza. Quindi io sono costretta a fare sport in modo continuativo e costante. Sono Stefania, mamma, moglie, datore di lavoro, formatrice della sicurezza e testimonial. Scendo di sotto nell'area produttiva per prendere il report di produzione per fare i prezzi e vedo un collega che stava movimentando un blocco di ferro e d'ambleo ho detto vabbè, posi i fogli e ti do la mano. E questa è stata una frase estremamente vera perché in realtà da lì ho perso una mano perché il blocco di ferro si è staccato da un centimetro dall'altro e quindi lì sotto c'era la mia mano. Non ho mai maledetto quel venerdì perché quello era il mio giorno X dovevo essere lì e non mi sono nemmeno chiesta il perché. Ho sempre pensato per fortuna a me e non al mio dipendente perché sarebbe stato difficilissimo da affrontare perché vi è una responsabilità che esula comunque dal datore di lavoro è proprio una responsabilità personale, umana quindi per me dico ringrazio Dio che sia capitato a me. Devi perdonarti, perdonare nel mio caso, perdonare me stessa e in altri casi perdonare magari chi ti ha creato l'infortunio chi ti ha creato quello che ti è capitato chi ti ha creato il problema che hai nel momento in cui perdoni rinasci se non c'è questo passo fondamentale non si può rinascere e vivrai sempre nel passato col peso di quello che ti è capitato chiedendoti effettivamente perché a me. È una storia davvero che tocca di questa imprenditrice. Avvocato, lei tra l'altro segue anche le professioni sanitarie prima facevamo il riferimento anche agli infortuni alle vittime da Covid perché questi dati, gli ultimi dell'INEL raccontano ovviamente quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. Anche quello è un infortunio sul lavoro per le professioni sanitarie? Assolutamente sì, insomma abbiamo parlato tantissimo di sicurezza, di salute sul lavoro specialmente ai tempi della pandemia e la pandemia ci ha insegnato tantissimo perché tantissimi sono stati le morti nel mondo della sanità tra tutte le professioni sanitarie medici, infermieri, tecnici di laboratorio tecnici sanitari, logobedisti tutti coloro che erano in corsia a sostenere le persone malate si sono a loro volta ammalate e questo è inaccettabile che il personale sia stato colpito dal Covid perché erano privi dei dispositivi di protezione individuale e allora se il personale è chiamato ad aiutare gli altri e a sua volta colpito questo ce lo dice lunga su quanto diceva il Presidente di quanto ci sia poca prevenzione poca precauzione poca attenzione alla sicurezza la pandemia ci ha insegnato tantissimi soldi del PNRR destinati alla formazione, alla prevenzione, alla sicurezza sul lavoro ma bisogna anche fare formazione quindi è fondamentale che tutto questo venga diffuso che ci sia una cultura della prevenzione, della precauzione e della sicurezza sul lavoro perché è vero che bisogna perdonarsi ma è difficile perdonare chi non è stato attento non ci ha dato gli strumenti per proteggere e quindi per evitare di morire perché è difficile spiegare ai familiari delle vittime dei medici, delle professioni sanitarie che hanno perso i loro familiari perché aiutavano gli altri perché non avevano dispositivi di protezione individuale e tante sono state le battaglie per far riconoscere quelli come infortuni sul lavoro perché non era neanche scontato perché la pandemia era una novità e quindi abbiamo veramente lottato tantissimo abbiamo creato anche quella che è la Costituzione Etica della Federazione in cui sicurezza, prevenzione e precauzione sono entrate all'interno di questa carta etica che è unica al mondo proprio perché è nata nel corso della pandemia e ci ha insegnato tanto e tutto quello che non si dovrebbe più fare e speriamo che veramente abbiamo imparato in questa Italia che difficilmente purtroppo si impara tutta l'emergenza e poi diventa difficile C'è un dato se posso aggiungere che noi abbiamo perso più di 300 medici per contagio nella pandemia se andiamo a vedere quello che è accaduto negli altri paesi europei sono tutti sotto i 100 quindi questo deve farci riflettere ne abbiamo comparti a migliaia perché sono coinvolte tutte e 30 le professioni della sanità e sono veramente... In Germania meno di 30 cioè 10 volte di meno qualcosa vorrà dire quindi significa che qualcosa si può fare continuiamo a parlare fra un attimo di questo intanto vi aggiorno perché come sapete c'è una guerra nel cuore dell'Europa che continua e noi vogliamo continuare a parlarne dall'Ucraina arrivano proprio notizie di nuovi attacchi da parte dei russi nella città portuale a sud del paese la città è quella di Odessa ormai la conoscete città che peraltro era già stata colpita nei giorni scorsi proprio all'indomani di quell'accordo firmato in Turchia tra Russia e Ucraina sotto legida dell'ONU che dovrebbe sbloccare proprio la partenza dei cereali di tonnellate di cereali bloccati nei porti del paese e poi vi ricordo che oggi in mattinata sono tutti avvenimenti di cui continueremo a parlare e che seguiremo oggi nel corso degli appuntamenti del Tg1 in mattinata è previsto un consiglio dei ministri con la relazione del ministro dell'economia sulle risorse che andranno a finanziare il decreto aiuti mentre continua come dicevamo la corsa per le politiche due appuntamenti quest'oggi per i partiti la direzione nazionale del PD alle 9 questa mattina e alle 21 questa sera si vedranno invece i gruppi parlamentari di Italia Viva questo è il quadro della giornata ovviamente poi l'attualità non ci fornisce mai Alessandro un preavviso questo è quello che sappiamo fino a questo momento per tornare però su questo tema importantissimo Presidente Bettoni voglio chiudere con lei sicurezza sul lavoro abbiamo detto di quanto è importante la prevenzione e anche tanto importante far sentire testimonianze come quella di questa imprenditrice perché è anche lì che bisogna lavorare sulla formazione prevenzione in sintesi fa rima sempre con formazione ha ragione io la capisco perché ho provato anche io quello che ha provato lei l'importante noi dicevamo prima la tutela delle vittime degli infortunati delle famiglie che è una parte ma noi abbiamo anche l'altra parte che sono le imprese piccole e grandi e l'istituto per promuovere la prevenzione ha due strumenti importanti i bandi ISI a fondo perduto che quest'anno sono stati 274 milioni che le aziende di tutti e ogni ordine che hanno presentano per fare sicurezza a fondo perduto di cui 74 milioni dedicati al tema amianto anche per quest'anno anche per le piccole medie aziende in agricoltura e l'altra parte è le aziende che fanno prevenzione e sicurezza lo sgravio dei premi assicurativi quest'anno 26 mila progetti di prevenzione prevenzionali per la sicurezza 150 milioni in meno per le aziende pagate per chi ha presentato questo progetto pertanto lavorare sui due fronti lavoratrici lavoratori e imprese è quello che l'istituto deve continuare a fare e fare insieme al Parlamento alla politica perché qui dobbiamo essere trasversali i dati li ho detti all'inizio non possiamo permetterci in un paese come l'Italia i dati che ieri abbiamo presentato come istituto e dobbiamo lavorare insieme alle forze sociali insieme anche a voi per promuovere quella cultura della dignità del rispetto perché indignarci non serve ci serve ma non aiuta non basta non basta per quelle famiglie per quelle persone grazie grazie presidente dell'INA il franco bettoni